Partiamo da una domanda di una telespeccatrice, Anna Dacchieti, su Instagram, che si chiede proprio, oggi c'è la riunione della BCE, ci sono le condizioni per un taglio dei tassi della BCE ancora? Ovviamente qui c'è già stato, la domanda è ci sarà un miniciclo di taglio dei tassi della BCE? Lei che cosa pensa Fabio? Ma direi di sì, probabilmente la BCE non taglierà i tassi di interesse oggi, anche perché andare senza la Fed, cioè senza che anche la Fed abbia tagliato i tassi per due volte di fila in tempi così ravvicinati sarebbe forse un pochino troppo aggressivo. Noi pensiamo che a settembre però la BCE troverà nuovo coraggio per tagliare i tassi, probabilmente lo farà anche a dicembre. I ragionamenti quali sono? Da un punto di vista della crescita, sebbene le cose non vadano poi così male in Europa rispetto alle previsioni della BCE, la crescita sta andando diciamo così un pochino più a rilento di quello che la BCE si aspetta e quindi ci sta che taglino a settembre. Magari che aspettino però non taglino subito ci sta anche perché l'inflazione soprattutto nella componente dei servizi si sta dimostrando per ragioni tecniche probabilmente temporanee però un po' più resiliente delle attese. Quindi è ragionevole immaginare che oggi saranno fermi ma vadano, taglino i tassi a settembre e poi di nuovo a dicembre. L'inflazione che stiamo vedendo è che lei citava Fabio che effettivamente è stata in calo ieri rispetto al dato di maggio quindi per rispondere ad Anna noi diremmo le condizioni ci sono tutte però lei appunto sostiene non oggi però magari a settembre perché secondo lei aspetterà la Fed, la BCE? Aspetterà un segnale dalla Fed perché anche a settembre la BCE si riunirà prima della Federal Reserve però c'è Jackson Hall, noi crediamo che a Jackson Hall a fine agosto la Fed aprirà le porte per un taglio a settembre, ci immaginiamo una BCE che crederà alle parole e alle indicazioni della Fed e quindi con un cuore un po' più leggero taglierà i tassi a settembre qualche giorno prima di quanto poi farà la Fed. Chiarissimo, c'è un'altra domanda di un telespettatore, no? Virgilio ci scrive da Verona su TikTok, negli USA quando si inizierà a tagliare i tassi? Lei nella sua, in una delle sue newsletter, in uno scritto tra l'altro molto interessante a sua firma, mi è parso di capire che resti abbastanza ottimista sul punto per esempio disinflazione americana, poi mi correggo ovviamente se sbaglio. Come possiamo rispondere al telespettatore? Allora, risponderei in questo modo, per quanto riguarda il quando, la risposta è settembre, direi che oramai anche molti governatori che in passato invece sono dimostrati un po' più, diciamo così, attendisti, stanno aprendo la porta per un taglio che con tutta probabilità secondo noi avverrà a settembre dopo un'indicazione data al simposio di Jackson Hall a fine agosto. Sul quanto ci dobbiamo interrogare? La nostra risposta è che probabilmente la Fed entrerà in un ciclo di tagli cosiddetto disinflazionistico, cioè l'idea è tagliare i tassi di interesse perché l'inflazione sta scendendo, non perché l'economia sta rallentando, perché quello aprirebbe, diciamo così, al tema di tagli ai tassi di interesse in caso di recessione o con vista sulla recessione, che non è il nostro baseline. Ovviamente questo significa due cose, da un punto di vista proprio dei tassi, che i tassi che il mercato prezza o incorporerà non possono essere molti più di quelli di adesso, e il secondo è che evidentemente dei tassi in discesa rimangono un elemento favorevole per l'equity, soprattutto per il grow, qualora invece si entrasse in un ciclo di tagli recessionary la situazione cambierebbe in modo importante. Un altro passaggio del suo scritto Fabio dice, lei è stato molto chiaro in questa risposta, se tagliano i tassi è perché i prezzi stanno scendendo, non c'è una preoccupazione sull'economia. Non di meno, lei scrive, il mercato del lavoro, pur resiliente, continua a riequilibrarsi, perché poi Powell ha fatto capire che c'è appunto un raffreddamento del mercato del lavoro a Capitol Hill, no? Quindi mi chiedo, non è che a quel fattore inflattivo che lei ha ben spiegato, adesso inizia ad aggiungersi anche una sorta di indebolimento dell'economia americana? Secondo me questo è il rischio più importante ed è quello che stanno iniziando a guardare i governatori della Fed, perché seppur è vero che il mercato del lavoro americano è effettivamente ancora piuttosto solido, se guardiamo nell'insieme genera posti di lavoro su base mensile ancora superiore a quello che faceva nella media pre-Covid, ci sono due considerazioni da fare. La prima è che la composizione, quindi la tipologia di posti di lavoro che vengono create è sempre meno, diciamo così, a favore di quei settori che hanno a che fare con l'economia reale, quindi mi riferisco al manifatturiero, mi riferisco al settore dei servizi privati, ma sempre più a favore di settori aciclici, quindi il governo tipo il settore della sanità. Tendenzialmente questo è un segnale che di fatto chi, il grande employer, chi assume negli Stati Uniti d'America oggi è il governo, non è il mercato, quindi indubbiamente non è una notizia particolarmente positiva, seppur nell'insieme i numeri generati sono buoni. La seconda considerazione è che il mercato si è ribilanciato, domande e offerta di lavoro oggi sono in equilibrio. Da qui se la domanda di lavoro dovesse continuare a scendere, a meno che anche l'offerta di lavoro si riduca, il rischio è che il tasso di disoccupazione possa, diciamo così, andare ad aumentare più velocemente di quanto ha fatto finora. Nelle nostre aspettative, lato offerta di lavoro è difficile immaginare che gli americani non entri sul mercato del lavoro, per due ragioni. La prima, i risparmi accumulati durante il Covid si sono esauriti, soprattutto per quanto riguarda le classi economiche, diciamo così, meno abbienti e secondo c'è ancora grande spinta dal lato dell'immigrazione e io mi aspetterei che possa anche aumentare questo, perché se le aspettative, un po' di tutti, è che Trump avvinca le elezioni, probabilmente ci sarà magari un po' di corsa, fare un po' di fast track, no? Per cercare di entrare negli Stati Uniti prima che arrivi lui. Quindi questo è sicuramente un effetto che può portare il tasso di disoccupazione a rialzo, perché se la domanda scende e l'offerta continua a salire, quelle sono, diciamo così, le ripercussioni sul tasso di disoccupazione. Chiarissimo. Chiede Lorenzo su TikTok, con tutto quello che accade sul fronte geopolitico, il vostro scenario, quindi quali sono le attese per i prossimi mesi sui mercati per questo 2024? Fabio, parto da lei, veramente telegrafico. Strategicamente, quindi diciamo, con un orizzonte a fine anno, noi pensiamo che l'anno rimanga favorevole sia per i bond che per l'azionario. L'estate è un periodo di volatilità, agosto, settembre per quanto riguarda l'azionario, i bond hanno già corso molto, nel senso che i tassi sono scesi tanto, ci può essere qui adesso una fase, diciamo così, di stasi in attesa delle elezioni, però diciamo, strategicamente l'anno è positivo per entrambe le asset classi. Quindi uno scenario, diciamo, ampiamente allineato il vostro a quello descritto a fine 2023.